Il Monte dei Paschi di Siena non esclude che possano arrivare manifestazioni di interesse per essere acquisita o per una fusione anche durante l'aumento di capitale da 3 miliardi che parte lunedì e si chiuderà a metà giugno. Lo si legge nel prospetto dell'offerta. Il realizzarsi di un'operazione di aggregazione dipende da fattori esogeni che come tali, scrivono nel prospetto del Monte dei Paschi, sono in gran parte fuori dal totale controllo delle emittenti e non escluso possano materializzarsi integralmente o parzialmente anche prima della conclusione dell'aumento di capitale, tra cui la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di controparti interessate a un'acquisizione o a un'integrazione con il gruppo Monte Paschi. Questo è scritto nel prospetto. La banca ricorda anche di aver nominato UBS e Citigroup quali propri advisor finanziari per la strutturazione e l'implementazione delle azioni di mitigazione previste dal capital plan, nonché per valutare tutte le opzioni strategiche a disposizione della banca, fra le quali un'eventuale operazione di aggregazione con un partner strategico finanziario. L'aumento di capitale, voluto direttamente dalla Banca Centrale Europea, è integralmente coperto da un consorzio di garanzia guidato da UBS. Intanto la Consob segue con molta attenzione queste fasi. Il Fatto Quotidiano riporta una nota dell'organismo di vigilanza in cui afferma che l'aumento di capitale della banca senese presenta caratteristiche di forte diluizione e questo determina il rischio che durante il periodo di offerte in opzione delle nuove azioni si verificano anomalie di prezzo, consistenti in una sopravvalutazione del prezzo di mercato delle azioni rispetto al loro valore teorico. La Consob sottolinea che monitorerà attentamente l'andamento delle azioni della banca durante il periodo dell'offerta, con particolare riferimento al rispetto delle misure in tema di vendite allo scoperto. La Consob sottolinea il divieto di effettuare questo tipo di vendite in assenza della disponibilità di titoli, le cosiddette vendite nude. Intanto sul fronte delle scelte della fondazione in merito all'adesione o meno all'aumento di capitale, il presidente Marcello Clari ci ha detto che la decisione arriverà tra lunedì e martedì. E a proposito delle ipotesi su un futuro partner per banca Monte dei Paschi, Clari ci ribadisce di essere convinto che occorra un partner che aiuti a creare valore e sinergie. Al momento, ha detto, non sembra esserci un numero alto di pretendenti. In ogni caso, con l'aumento di capitale, il Monte dei Paschi si rafforza, non è più andare a chiedere un cavaliere bianco, ma un tentativo di creare valore. Senza fretta, ha concluso Clari.